Buonasera e benvenuti a questa edizione del telegiornale di Telegarda. Buon primo maggio dalla nostra redazione. Domenica 10 maggio alle ore 10 si terrà la cerimonia di inaugurazione della nuova sede dell'Associazione Nuvola Alto Garda e Ledro, il nucleo volontari alpini nato nel 1993 che ha trovato posto presso la caserma dei pompieri a Caneve. Il programma prevede il ritrovo alle ore 9.50 presso la sede in località Bruttagosto 12 a Caneve, alle ore 10 la Santa Messa e a seguire il taglio del nastro e il saluto delle autorità, alle 12.30 il brindisi in compagnia e a seguire il pranzo. I sentimenti che animano in nuvola sono la generosità, la voglia di essere sempre presenti dove la loro opera è preziosa ed apprezzata e di essere al servizio delle persone e popolazioni che hanno bisogno. Da ormai 22 anni i nuvola si distinguono per una significativa attività socioassistenziale rigorosamente all'insegna del volontariato. Siamo andati a vedere la nuova struttura e abbiamo intervistato il capo nucleo Mario Gatto. Il 10 maggio c'è l'inaugurazione della nuova sede dell'Associazione Nuvola. Di cosa vi occupate voi come associazione e come è strutturata quella nuova sede? Ecco diciamo che noi siamo nati intanto nel 1993, 1993. Nel 2013 abbiamo fatto 20 anni e dopo varie sedi avute in giro per l'Alto Garda finalmente abbiamo una sede stabile. Stabile e questo grazie alla provincia, al comune soprattutto al sindaco Betta che ci è stato vicino e attualmente anche ricopre un po' il responsabile della protezione civile. Noi ci occupiamo di logistica, prepariamo pasti, montiamo tente in case di emergenza oppure ci occupiamo a livello, durante l'anno, quando non esiste un'emergenza e quando non si presenta un'emergenza collaboriamo con le varie amministrazioni, associazione senza scopo di lucro. Prepariamo pasti come è successo questo mese a Tenno con ViviCittà e come faremo sabato per il settantesimo della seconda guerra mondiale. Il materiale che abbiamo è vario, va dalle tente alle cucine su carrello che ci permette in poco tempo di preparare pasti e di distribuirli. Noi siamo in grado di distribuire pasti in giro di un'ora e distribuire mille paste, quindi anche di più. Dipende un po' dalla richiesta che abbiamo. Poi altre attività, noi siamo come volontari 43 e ognuno di noi ha un suo compito e tra noi esistono elettricisti, muratori, cuochi, abbiamo tre cuochi, questa è la nostra fortuna e che ci preparano ci aiutano un po' a fare la figura dovuta per quel che facciamo. Poi dopo la sede che verrà inaugurata il 10, spero che partecipino, la popolazione partecipe alla nostra festa che sarà davvero una grande festa, speriamo, è la festa di tutti perché noi è vero che siamo qua, però siamo a disposizione della popolazione, dell'emergenza e quant'altro su richiesta, sempre senza scopo di lucro. Il volontario nostro, volontario puro. Grazie a tutti.